Oggi ai microfoni di Radio Siani, siamo in compagnia della senatrice Monica Cirinà, qui diamo il nostro più caloroso benvenuto. Senatrice? Grazie, felice di essere a Napoli. Partiamo subito con la questione relativa appunto alle discriminazioni che sono avvenute nel corso appunto dell'anno della pandemia da Covid-19, dove si è passati dall'11 al 28% nei confronti delle persone LGBT. Ecco, un provvedimento come quello del tanto discusso di DL e Zan, come potrebbe ridurre notevolmente i numeri e casi del genere? Il testo Zan, come fu il testo sulle unioni civili e molti altri, sono testi che cambiano la cultura del Paese, sono testi che, introducendo comunque le violazioni penali rispetto alla discriminazione delle persone, educano e costringono chi non vuole ad adeguarsi comunque al rispetto degli altri. Cambiando la cultura dovrebbero cambiare molte situazioni. Certo, quello che abbiamo vissuto nel lockdown, penso anche al maltrattamento delle donne, è un fatto gravissimo e che io spero non si riproduca più, anche perché con l'andare avanti dei vaccini il lockdown ormai è un brutto incubo, un brutto ricordo. Inoltre vorrei riportare alla sua attenzione un'indagine compiuta dal quotidiano La Repubblica in particolare, che dimostra che uno studente su tre considera l'omosessualità una cosa sbagliata. Addirittura il 27% dei giovani e soprattutto degli studenti ammette di non volere avere come compagno di banco una persona che sia gay, lesbica o quant'altro. Ecco, attraverso quali strumenti possiamo rivoluzionare, soprattutto attraverso quali strumenti possiamo fondare una cultura incentrata sul rispetto delle persone a prescindere dell'orientamento sessuale? Bisogna sconfiggere l'ignoranza, ma l'ignoranza nel senso etimologico della parola, cioè ignorare. Cominciando nel spiegare che, per esempio, nel 1982 l'OMS tolse l'omosessualità dalle malattie psichiatriche. Quindi spiegare che è una semplice diversità cromosomica che permette ad una persona di nascere omosessuale piuttosto che eterosessuale. Semplicemente che è la natura che ha varie sfaccettature e che fa il suo corso. Ma non si può essere discriminati per la cosa più bella del mondo che è l'amore e soprattutto se non si fa educazione, non si fa cultura, non si sconfigge quel familismo patriarcale che in particolare in alcune realtà geografiche del nostro paese è ancora predominante. Se noi abbiamo questi ragazzi nelle scuole così giovani ma così oscurantisti vuol dire che anche nella loro famiglia nessuno ha aperto un faro di luce nelle loro coscienze. Quindi sconfiggere la cultura patriarcale a cominciare dalle famiglie. Infine lei ha parlato anche di donne in questo caso. E sappiamo che una delle più grandi piaghe sociali è proprio la disuguaglianza e la discriminazione nei confronti delle donne che si manifesta sotto differenti forme, violenza fisica, verbale e negli ultimi giorni anche artistica. Non a caso non possiamo non far riferimento all'inaugurazione della statua della Spigolatrice a Sapri dove sia lei che Laura Boldrini avete mostrato il vostro dissenso. Nonostante una società si autoproclami come giusta e uguale nei confronti delle donne perché si ripetono con costanza questi episodi secondo lei? Perché anche qui la cultura patriarcale prevale rispetto a una visione. La cultura è ancora molto sessista nei confronti delle donne. Quindi le donne formose, belle, con abiti trasparenti piuttosto che sessualmente appetibili hanno comunque all'interno di questa cultura una collocazione particolare. Adesso che la Spigolatrice debba avere abiti così succinti e mostrare un così bel lato B mi verrebbe da dire non ha niente a che vedere con la condanna dell'arte in sé ma quella non è la Spigolatrice, non è la donna che si è ribellata all'oppressore borbonico non è la donna che ha scelto di non andare a lavorare per combattere in partigianeria così come poi sarebbe accaduto in altri tempi. È per questo che io e Laura ci siamo indignate insieme alle compagne per prime del PD Sicilia. Lo voglio dire perché qualcuno mi ha attaccato su Twitter dicendo la Cirinna non sa che Sapri non sta in Sicilia ma insomma io dico un po' di buonsenso anche nei confronti di chi fa il parlamentare. Se si taggano alcune sigle si taggano per motivi politici. le compagne del PD Sicilia si sono per prima indignate e mi sembrava giusto dare loro un sostegno. Perfino Pierluigi Battista, una firma del Corriere della Sera evidentemente i social hanno una devianza che è meglio in qualche modo correggere. Le ringraziamo per la partecipazione qui a Redesiani e cogliamo l'occasione per invitarla dal vivo. Benissimo, quanto prima lo farò. Grazie.